Vogliono incidere nelle scelte, nei nomi, sui metodi. Hanno alzato la testa tutti assieme i segretari cittadini del Partito Democratico. A qualche giorno dalla presa di posizione dell'ufficio di segreteria provinciale arriva il documento dei segretari. Da Riesi a Mazzarino a Villalba, Montedoro, Gela, San Cataldo, Caltanissetta. Sono venti le firme che reca in calcio il terzo documento della lunga saga che riguarda la scelta delle candidature per il collegio proporzionale alle future elezioni nazionali. Tra i venti nomi non si legge però quello del segretario del PD di Mussomeli, paese natale della deputata messa alla graticola, Daniela Cardinale. Si sono sentiti scavalcati per troppi anni i dirigenti provinciali del Partito, quelli che ogni giorno hanno a che fare con gli elettori, con i militanti, con i problemi che i circoli dei piccoli paesi continuano ad avere con la disaffezione nei confronti del Partito. Scrivono loro. Disaffezione dettata anche dalla mancanza di interesse dell'attuale deputata nazionale, Daniela Cardinale, per il suo territorio. Si sono sentiti abbandonati. La presa di posizione sul punto nasce non solo per dire la propria sui metodi, ma probabilmente anche come levata di scudi, rispetto ad una dichiarazione dell'ex ministro Salvatore Cardinale alla stampa, rilasciata qualche giorno addietro, quando affermava che il rapporto tra la figlia Daniela e il territorio è saldo. Questo avrà fatto solbalzare dalla serie i segretari del Partito ed ecco la risposta. Il parlamentare che avrebbe dovuto occuparsi della nostra provincia, scrivono, probabilmente è stata impegnata a fare altro, di sicuro non è stato un punto di riferimento per noi segretari di circolo e per queste ragioni il metodo di selezione errato dei candidati potrebbe segnare un punto di non ritorno. Non le mandano a dire questa volta i segretari provinciali che più volte ribadiscono il senso di abbandono e di scollamento tra la base e i vertici che hanno vissuto in questi ultimi anni. Ma non demordono e rilanciano, chiedono di essere ascoltati ed in caso contrario parlano di strappo non ricucibile. Sarà come più volte ormai preventivato un ammutinamento, incroceranno le braccia durante la campagna elettorale.